Uno dei problemi dello stadio di Acquasanta oggi è quello della videosorveglianza, come ci conferma l'assessore alle opere pubbliche del Comune dell'Aquila, Maurizio Capri. Per questo, infatti, c'è una gara a parte. Alla nostra domanda se i tempi di apertura dello stadio slitteranno per questo, l'assessore dice che non devono slittare perché questa cosa va accelerata. Troppi anni per la costruzione di uno stadio, la cui struttura poi già era esistente. Se pensiamo che per costruire stadi molto più grandi c'è voluto meno, giudicate voi. Per la consegna dei lavori, il cartello recitava a metà giugno, il 10 più precisamente, poi lo slittamento a causa del maltempo. Entro luglio dovrebbe comunque essere omologato, essere pronto per giocare a settembre. Queste erano le intenzioni. Ma senza videosorveglianza si potrà giocare il campionato? Mi sono esposto pubblicamente, ha ricordato l'assessore Capri, per il manto erboso e l'illuminazione, comprese torri faro, entro qualche giorno dovrebbe essere tutto a posto. Nei prossimi giorni è previsto il collaudo del campo. Con questi aspetti può essere agibile formalmente. Per il campionato però va accelerata la pratica della videosorveglianza, ricorda. Da risolvere anche il problema dei seggiolini. Ma con il bilancio uscirà fuori, assicura la cifra per questi. Una storia però troppo lunga, quella dello stadio Acquasanta, passato anche di gestione in gestione, anche se una continuità amministrativa c'è stata, dal punto di vista politico. A tratti imbarazzante questo ritardo. I soliti ritardi all'italiana, possiamo definirli così. L'Aquila non fa eccezione. Tutto bellissimo, insomma, nelle intenzioni. Ma ciò che la città tutta vorrebbe è la consegna finalmente di questo stadio, che l'Aquila sportiva attende da troppo tempo. Nella prima gara d'appalto, lo ricordiamo, era previsto il completamento dello stadio in ogni sua parte, ad eccezione della videosorveglianza. Questo nel 2010, dopo aver ospitato la tendopoli del terremoto. Poi le varianti al progetto originario. Dalla consegna del primo lotto, avvenuta nel 2012-2013, alla consegna del secondo lotto, avvenuta nel 2015, sono passati due o tre anni circa, per una serie di errori nella formulazione della gara d'appalto. Una responsabilità decisamente politico-amministrativa, questa, che ha generato un ritardo incredibile, per lavori che di certo avrebbero richiesto meno tempo, essendoci una struttura già esistente.